Oggi noi ricordiamo un eroe, Paolo Borsellino, un eroe laico della nostra società. Facciamo di lui un grande ricordo per il futuro. Cioè noi vogliamo dire che per il futuro quelli sono gli eroi che noi ricordiamo. E vogliamo dirlo dicendo insieme che abbiamo seguito la strada di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone. E oggi il fatto che in una sede scientifica come l'Università di Messina si approfondisca il tema dei beni confiscati significa che qualcosa ha funzionato molto bene. E cioè che la strategia di insieme di sequestri e confische dei patrimoni criminali ha avuto un tale successo da porre un problema di gestione dei beni. Perché se non ci fosse questo problema vuol dire che tutta la strategia avrebbe avuto poco successo e che avendo sequestrato pochi beni non ci sarebbe la necessità di gestirli al meglio. Ecco tutto questo è la prova di un successo ottenuto.